Il 5 febbraio 1936 a New York viene proiettato in prima mondiale il film di Charlie Chaplin Tempi moderni. Gli Stati Uniti stanno uscendo faticosamente dalla grande depressione e Chaplin con questa pellicola, grazie anche al suo stile e al suo umorismo particolare, riesce a fotografare la disumanizzazione imposta dalle catene di montaggio. Dall'uomo ingranaggio di Chaplin a oggi siamo arrivati all'uomo algoritmo, ma non c'è ancora in circolazione un Chaplin in grado di raccontare i nuovi tempi moderni con la stessa efficacia e levità.